Salve a tutti fratelli e sorelle, Dio vi benedica dal nostro nuovo appuntamento di avvisi, programmazioni e quant'altro Dio vi benedica e salutato il nostro Signore Gesù Cristo di oggi 11 luglio 2019 Alle ore 14 e 45 circa c'è la coroncina della Divina Misericordia Dio, sapete qui, mettiamo solo le trasmissioni live ovviamente, almeno sapete più o meno quando ci saranno, se Dio vuole ovviamente Live Meditando Notizie alle ore 16 e 30 e Meditando Live alle ore 22 Quindi in questa giornata avremo coroncina live della Divina Misericordia alle 14 e 45, Live Meditando Notizie alle 16 e 30 e Meditando Live alle ore 22 Dio vi benedica, santa giornata a tutti voi e buona giornata Dio vi benedica